Siamo pronti a sentire il pezzo di Christian, che mi ridici il titolo di questa canzone? Unspettenance of Light Poi però dobbiamo sapere come è finita la storia che ha ispirato questa canzone, ma ce lo dirai dopo Quindi sfumiamo il sottofondo musicale, Gigi e Chris, tutto per te, vai! Siamo pronti a sentire il video, Gigi e Chris, tutto per te, vai! Siamo pronti a sentire il video, Gigi e Chris, tutto per te, vai! Siamo pronti a sentire il video, Gigi e Chris, tutto per te, vai! Siamo pronti a sentire il video, Gigi e Chris, tutto per te, vai! 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 Gigi e Chris, tutto per te, vai!